ciao ragazzi buongiorno un saluto al tarfone allora mi è stato chiesto di farvi vedere come caricare la versione a cui sto giocando della divide conquer per medieval 2 ok vi ricordo che dovete avere il gioco base in quanto mi è stato chiesto da un ragazzo e per utilizzare le mod di base dovete sempre avere il gioco a cui fa riferimento la mod per cui qui ad esempio è medieval 2 kingdoms ok e per altri giochi sono altri allora qui noi siamo sul buon mod db ok e abbiamo la versione 4.6 rilasciata 21 aprile 2018 come potete vedere non c'è nulla di più ma se voi cliccate qua ok c'è la versione 5 rilasciata esclusivamente sul discord loro del gruppo dei modder che hanno fatto la versione io ora adesso il disco non lo faccio vedere loggate semplicemente intanto aspetta vediamo e vi faccio vedere continua su discord ok ve lo faccio vedere da qua anzi no ho sbagliato anche a chiudere le cose ma va bene tanto sappiamo che ok questo è il disco loro qui potete vedere ok le varie versioni da scaricare vedete download versione 5 open beta google drive mega ego file mega ho visto che hanno fatto una cosa strana ok nel senso che dopo 8 giga non puoi scaricare altro per cui dovete fare l'abbonamento google drive scaricare tranquillamente go file non lo so non l'ho mai trovato qui ci sono le istruzioni che comunque andremo a vedere assieme adesso come installare la mod qui c'è l'hotfix ok c'è il file dell'hotfix che è stato anche aggiornato per cui dovrei scaricarlo ma andiamo a vedere il tutto allora voi andrete a scaricare l'eseguibile ok o meglio sarà un file di palco che poi lo scompattate ok e vi diventa questo eseguibile lo lanciate dai forza ok vi viene fuori l'eseguibile ok e vi dice lui stesso che dovete installare il il gioco ok praticamente la destinazione deve essere la cartella di medieval 2 punto nessun'altra ok una volta fatto questo lui farà tutti i suoi processi vi installerà automaticamente la mod ocio con 19 giga di mod per cui ci metterà un po state attenti io c'ho computerino vecchietto noi usciamo dalla set up e siamo a posto andiamo a vedere la cartella sfoglia e file locali ok praticamente lui la installa in medieval 2 ma verrà messa dentro alle mod e in caso vi troverete la cartella di divide con quel proprio a parte non va a scrivere nessuno di questi che una volta andava messa la mod all'interno di una delle quattro espansioni di medieval invece ve la troverete direttamente qua se per caso o per sbaglio e vi dovesse capitare la la cartella qui oppure vi trovate la cartella medieval 2 qua dentro perché sbagliate l'installazione con poi un'altra cartella mod e un'altra cartella di video conquer semplicemente potete fare questo passaggio o reinstallate tutto standi attenti al alla strada al percorso che gli date oppure se avete tempo copiate e incollate i file dentro la cartella mod e poi cancellate la cartella extra che viene creata qua e siete appunto per lanciare il gioco dovete usare il dac.bat ok e vi lancia la la divide conquer e volendo vi installa automaticamente sul desktop l'icona col collegamento pronti a partire e avete fatto tutto per cui siete a posto non avete nessuna problematica da da fare da seguire o altro rispetto ai precedenti ovviamente non è una mod che può essere scaricata dal workshop anche perché il workshop non ce l'ha ok per cui purtroppo al momento è così e vi ho detto tutto se vi dovesse servire una mano scrivetemi sotto in caso vi lascio comunque il link del DmodDB in descrizione se avete bisogno contattatemi e in caso ci troviamo su Discord che vi spiego passo a passo come fare il tutto ma come potete potuto vedere è semplice c'è scritto tutto anche nel Discord loro ok vedete deve essere la tua destinazione Medieval 2 Mod Divide Conquer Data se avete installato la vecchia versione della Divide Conquer dovete cancellarla punto ok se volete fare i video come faccio io ok si può togliere la la monetizzazione se siete a posto se invece volete le musiche libere da copyright semplicemente andate qua guardate da chi hanno preso le musiche cioè guardiamo va bene ragazzi detto questo è tutto vi saluto fatemi sapere se avete bisogno e dal Tarfone è tutto buona giornata ciao belli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti